Ciao a tutti sono Mattia bentornati sul mio canale. Oggi vi parlo un po' della mia esperienza con il digitale di DJI perché avevo mostrato su Instagram e anche su Telegram che mi ero preso i v2 e mi avete chiesto in parecchi nei messaggi privati se mi stessi trovando bene e soprattutto se avevo informazioni anche sulle cam che devono uscire per questo sistema. Quindi vi do alcune informazioni che avrei voluto avere quando ho preso i goggles e vediamo insieme anche che accessori ho acquistato per i miei goggles. Innanzitutto io avevo provato il sistema DJI anche con i goggles versione v1 in un periodo in cui erano praticamente appena usciti. In quel periodo non esisteva il firmware che dava i 50 megabit per secondo e c'erano latenze molto più alte. Io quando l'ho provato quella volta sinceramente non ero per niente soddisfatto tant'è che li ho venduti subito ed ho comprato gli HDO2 pensando che il digitale fosse quello e che non avrei quindi trovato una soluzione per passare al digitale. Subito dopo l'acquisto degli HDO2 è uscito il firmware dei 50 megabit per secondo e dopo un po' sono riuscito a provarlo ed effettivamente c'è un cambiamento molto grosso dal firmware vecchio ai firmware nuovi. Se volete fare una prova e avete i goggles DJI potete fare questo. Provate a volare nel canale pubblico e poi provate a volare nel canale reale quindi uno dei quattro disponibili per il firmware 50 megabit per secondo. E vedete che quella è praticamente la differenza che c'era tra i DJI goggles di adesso e quando li usavo io con il primissimo firmware. Quindi questo vi fa capire che almeno io sono un po' delicato sul video. Infatti con il video analogico diciamo che ho raggiunto un equilibrio buono e ho dei goggles che sono top di gamma quindi gli HDO V2. Uso delle buone VTX antenne al top quindi ho sempre un segnale video molto buono. Ho anni di esperienza ormai nell'assemblaggio dei quad quindi so anche un po' come gestirmi i componenti per non avere tanti disturbi nel video e quindi sono abituato ad un analogico buono. C'è una grossa differenza tra un analogico buono e un analogico economico scarso e questa differenza qua è ancora più percettibile quando poi si confrontano questi DVR o i video con il digitale. Per questo anche il primo digitale non mi ha soddisfatto ed era legato tanto anche alla latenza che secondo me un po' si sente in alcune situazioni anche sui goggles di adesso quindi V2 con l'ultimo firmware ma è molto più sopportabile mentre all'inizio proprio sentivo che quello che stavo facendo con le leve sul mio radiocomando non era quello che stavo vedendo e che magari per uno molto bravo non fa differenza ma per me mi rendeva molto difficile guidare bene come vorrei. Questo implica che non tutte le cam che sono in vendita mi soddisfano. Questo perché ci sono le cam come quella originale DJI o la nuova di Caddx che sarebbe quella della Nebula Pro e anche della cam che vi avevo mostrato su instagram che sono quelle nuove della nuova DJI Air Unit che supportano il firmware 50 megabit per secondo sono in quattro terzi si possono cambiare le impostazioni per colori e tutto il resto riguardante la cam e hanno la modalità bassa latenza nel menu che secondo me è molto importante insomma la cam è buona e funzionano perfettamente queste praticamente ora non si trovano non si riesce ad acquistare da nessuna parte ora trovate la Polar io l'ho provata e non mi è piaciuta si sente che non è una cam 120 fps ma una 60 e si vede che la latenza è diversa rispetto alla Nebula Pro che utilizzo di solito oppure trovate tutte le nano che sono ottime su un hoop o comunque su modelli compatti in cui non c'è lo spazio per la cam vera diciamo supportano il 50 megabit per secondo ma hanno tante impostazioni bloccate e si vede che la latenza non è la stessa rispetto alle cam pro quindi diciamo se siete dei fissati come me vorrete solo un certo tipo di cam che adesso non si trova quindi qui inizia ad esserci il primo problema del mio rapporto con i DJI adesso e cioè che non riesco a trovare le cam per convertire i miei modelli al digitale tant'è che ad oggi ne ho quattro quindi solo quattro modelli rispetto a tutti gli altri che sono rimasti in analogico altra nota dolente è che tra l'altro la mia cam preferita che è la Nebula Pro non sarà più prodotta o almeno su Banggood mi hanno detto che non verrà più non avranno più un restock quindi non ti dicono neanche in che data verrà spedita tant'è che avevo un ordine fermo da giugno e mi hanno reso i soldi perché non c'era modo di avere di ricevere la cam se non non so magari escerà il modello nuovo e mi avrebbero spedito quello però al momento non c'è quindi quando si considera se utilizzare DJI o analogico considerate sempre che la differenza di prezzo non è tanto nei goggles ma nelle cam perché anche ai prezzi attuali le poche che riuscite a trovare in vendita sfiorano i 200 euro e 200 euro per quanto vogliate spendere tanto sull'analogico è di più rispetto ad un quad analogico anche perché su un quad analogico una build economica ci sono cam da 20 euro e vtx da 20 euro che sono ottime non hanno nulla da invidiare ai modelli più costosi che magari danno quel qualcosina in più ma non sono indispensabili mentre su DJI si va dai 100 euro della nebula nano fino ai 200 di quelle che sono secondo me le cam da comprare e quindi su una build economica capirete che spendere 40 euro per il reparto video e spenderne 200 non è più una build economica per quanto riguarda i goggles invece ormai vi ho segnalato su telegram che addirittura si trovavano a 504 euro da amazon quindi spediti dall'italia il prezzo secondo me si assesterà sui 550 non di più io li ho presi a 650 da drone 24 hours e era il prezzo a cui si trovavano in quel momento non c'era tanto da sperare perché purtroppo su banggood sono stati fuori stock per molto tempo e quindi non sono riuscito a prenderli là dove si riuscivano a comprare sui 500 euro tra l'altro di v2 ne avevo presi un paio da banggood a 500 ma poi li ho rivenduti appena mi sono arrivati per motivi che non vi sto a raccontare quindi in realtà tanti v2 sono stati spediti effettivamente da banggood ma gli ordini erano migliaia e sapete siamo in un periodo in cui non ci sono i componenti per fare nulla quindi tanti ordini so che sono rimasti fermi parecchio tempo prima di essere evasi detto questo vi mostro velocemente come ho modificato i goggles e c'è una modifica che per me è imprescindibile e cioè quella della spugna questa è la spugna originale DJI fatta in memory foam tipo e secondo me quella che vi danno quando acquistate i goggles è inutilizzabile mi entrava tutta la luce dai lati e soprattutto essendo un finta pelle sudavo tantissimo questa originale DJI costicchia perché l'ho parata con spese di predizione tutto mi pare 20 24 euro che sono una follia per della spugna ne ho trovata una che vi lascio linkato in descrizione che è secondo me identica da banggood e costa ovviamente meno poi vedete che ho montato le antenne queste sono le luminear le ax2 hd e devo dire che ho preso queste antenne perché tutti dicevano che le antenne originali fanno schifo che bisogna fare subito l'upgrade ma se devo essere sincero per chi vola non in long range le antenne originali nel mio caso erano più che sufficienti ora montando una air unit su aereo proverò a fare qualche chilometro e vedere effettivamente range reale e probabilmente di avere le due direzionali farà differenza per quanto riguarda i v2 sappiamo che i v2 hanno anche i 2.4 gigahertz oltre ai 5.8 che serve solamente se avete il drone fpv di DJI quindi nel mio caso non me ne fregava niente ho montato queste antenne che sono solo 5.8 gigahertz si possono acquistare anche antenne che sono combinate combinate 2.4 gigahertz 5.8 come quelle originali ma nel mio caso non aveva assolutamente senso non ho il drone di DJI e non ho nessuna intenzione di acquistarlo in realtà e quindi le antenne secondo me sì sono ottime ma non è un upgrade indispensabile e provate ad acquistarle non insieme ai goggles ma magari più avanti se vedete che effettivamente vi dà problemi di range io ripeto con le antenne originali mi trovavo bene altra cosa che ho fatto mi sono fatto fare le lenti con le mie diottrie da roll hands è lo stesso produttore che aveva fatto per me anche quelle per i miei hd2 e le lenti cambiano completamente il video perché ovviamente se come me avete un po di astigmatismo miopia la messa a fuoco non è perfetta negli hd o2 ho la regolazione delle diottrie mentre come succedeva con gli hd2 che avevo prima qua ho bisogno di lenti apposite il sito roll hands è super serio è un ottico a cui praticamente mandate la vostra prescrizione per le lenti e lui vi prepara queste lenti ad incastro che funzionano perfettamente da montare sui vostri goggles tra l'altro se vi spaventate guardando il sito perché non c'è scritto che sono compatibili con i v2 non preoccupatevi perché io le ho prese e funzionano perfettamente le lenti oltre a mettere bene a fuoco l'immagine aiutano anche a proteggere le vere lenti dei goggles quindi è un modo anche per tenere più in ordine i vostri goggles oltretutto se andate con le ciglia a sporcare le lenti le lenti con le diottrie le potete sganciare e pulire lontano dai goggles quindi usando anche magari dei prodotti apposta per pulire le lenti senza aver paura di andare a rovinare i goggles quindi vi ho detto tante cosette in realtà la la cosa principale è se ricomprerei i dji goggles attualmente in questa situazione in cui non si trova nelle cam e problemi vari e sicuramente li riprenderei perché l'hd in 50 megabit per secondo con low latency che è la configurazione che uso io è veramente uno spasso da utilizzare riuscite a vedere tanti dettagli che vi portano a fare un volo anche diverso soprattutto su aerei è molto bello godersi il paesaggio fare un volo tranquillo mentre li vedo un po meno fondamentali per freestyle dove continuo a preferire gli analogici e perché comunque si lì si sta cercando di fare un volo più estremo rispetto a godersi il paesaggio però di solito ora la mia routine è che in un posto nuovo la prima lipo la faccio con i dji così riesco a vedere se ci sono anche dei rami o dei fili che con l'analogico farei fatica a vedere studio un po la zona godendomi il paesaggio e poi se voglio fare qualche libro un po più spinta la faccio con i miei quad analogici anche perché nei quad analogici se vado a sbattere spacco la cam è un problema decisamente minore rispetto a rompere una cam dji che vi ripeto adesso non si trovano vi lascio in descrizione i link ai componenti che ho usato sui miei dji con farne il link anche per l'acquisto sia da amazon che da tutti i siti e se avete domande su questo sistema o se avete o se volete dei video in particolare sul sistema dji lasciatemi un commento nel video e cercherò di fare un video a riguardo se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche grazie per attenzione ciao